una doppietta del bomber Mario Martino consente allo scandale di battere il Real Fondo Gesù e di riconquistare in solitaria la vetta della classifica del girone B di prima categoria distanziando di due punti il Caraffa che è fermato sul pareggio a Santa Severina. È una partita importante questa per la squadra di casa che intanto rilancia la squadra nella primissima posizione della classifica e tiene a distanza appunto la squadra crotonese. Squadra crotonese che aveva riuscita a segnare con Gioele il gol del 2 a 1 e quindi poteva ancora sperare di raccogliere il pareggio così non è stato per la squadra di casa che è riuscita quindi di conseguenza a portare a casa questi importantissimi tre punti.